avete un file che è stato condiviso con voi selezionate il file e lo potete portare attraverso aggiungi al mio drive lo potete portare all'interno del vostro spazio di archiviazione selezionate organizza e potete anche scegliere di creare una nuova cartella in realtà il file non viene esattamente spostato in modo tale che tutte le persone con cui è condiviso possono continuare ad aprirlo e a lavorarci quello che viene fatto è che viene identificato quello che viene fatto è uno spostamento virtuale diciamo così viene creato una sorta di alias che vi consente di lavorare direttamente dal vostro drive senza tutte le volte andare a cercare il documento siamo all'interno di drive nel nostro computer vogliamo dare un'occhiata a il cestino abbiamo un sacco di roba nel cestino l'abbiamo buttata via con l'andare del tempo fantastico adesso cancelliamo come si fa io schiaccio il tasto destro del mouse sul cestino ma non succede niente qui non mi importa perché è il mio browser come cavolo faccio a cancellare beh guarda fare clic con il mouse sulla voce cestino qui in altro svuota il cestino siamo in google drive per tenere più ordinate le nostre cartelle che potrebbero essere anche diverse ecco che cosa facciamo clic sulla cartella tasto destro del mouse cambia colore e così possiamo avere sotto controllo le nostre cartelle ma sempre con il tasto destro del mouse possiamo cercare all'interno di questa cartella e possiamo aggiungere a speciali e quindi ritrovare immediatamente i nostri materiali in diversi modi stiamo facendo delle ricerche e prendiamo una parte di testo copiamo vogliamo inserirla in un documento google abbiamo un id google aperto ma non è necessario a questo punto entrare in drive crea documento e poi incollare lo facciamo direttamente da qua dalla url basta scrivere doc.new e automaticamente google crea un nuovo documento incollo clic qui riporterà il titolo della prima riga se non mi piace lo cambio e mi ritrovo con il mio documento che posso tenere da parte per poi svolgere le mie ricerche inserire i testi che mi servono stiamo facendo le nostre ricerche internet dobbiamo comporre un documento abbiamo bisogno di immagini inserisci immagine cerca nel web cioè non dobbiamo aprire un'altra pagina entrare nel nostro browser e fare una ricerca la facciamo direttamente da qui siamo in google doc ovviamente qui digitiamo che cosa vogliamo cercare giuseppe ungaretti benissimo cerchiamo giuseppe ungaretti ecco qua le immagini che bella questa da soldato poi ci piace anche questa perché no e poi anche questa fantastico e adesso inserisci e ora abbiamo le nostre immagini stiamo facendo delle ricerche abbiamo trovato del materiale in lingua inglese stanno facendo delle ricerche i nostri studenti hanno trovato del materiale in lingua inglese si sa che sono un po traballanti nella lingua inglese oppure noi non conosciamo la lingua per la quale abbiamo effettuato delle ricerche non importa copiamo incolliamo e poi strumenti traduci documento scegliamo la lingua direi che dall'inglese lo vogliamo tradurre in italiano eccolo qua traduttore traduttore e che cosa ha fatto ha creato un nuovo documento con la traduzione in italiano quindi li abbiamo entrambi abbiamo il documento originale in inglese e poi abbiamo il documento eccolo qua in inglese e poi abbiamo il documento tradotto in italiano abbiamo cambiato browser non siamo più in safari per mac ma siamo in chrome il browser creato da google perché perché vogliamo fare così strumenti digitazione vocale fai clic per parlare ciao a tutti cari ragazzi virgola voglio darvi un bel compito su giuseppe ungheretti punto a capo giuseppe ungheretti è uno dei più importanti poeti italiani punto voi lo sapete perché lo avete studiato virgola ma quello che vi voglio dire è che ora dovete fare una prova abbiamo dettato in lingua italiana ma lo possiamo fare in qualsiasi altra per esempio in lingua francese bonjour je m'appelle alberto je suis dans ma maison parce que il ya un grave danger dans la ville e donc je peux pas sortir siamo stufi dei soliti font questo font non mi piace ma cerchiamo né altri ecco qua altri caratteri altri caratteri ci porta a una collezione enorme di caratteri che noi possiamo scaricare liberamente e che google mette a disposizione non solo del suo google document ma anche di altri sistemi applicazioni per scrivere ma intanto noi siamo qua e vediamo vediamo un po vai cerchiamo uno uno che abbia qualche caratteristica eccolo particolare come questo poi che succede succede che vale possiamo scegliere anche degli altri andiamo un po a caso e dopo di che li scarichiamo per ora e li ritroviamo qua eccolo ma non mi piace neanche tanto questo e devo dire abbiamo un documento condiviso con più persone oppure scritto a più mani e vogliamo richiamare l'attenzione su una parte del testo per qualcuno quindi evidenziamo il testo tasto più e underscore e quindi scegliamo poi la persona alla quale vogliamo inviare questo commento abbiamo dato una risposta oppure abbiamo scritto un appunto oppure abbiamo creato un gioco e abbiamo spiegato la soluzione di questo gioco per esempio correzione gioco del giornalista vogliamo condividere questa spiegazione per non riscriverla tutta copiare incollare eccetera con un'altra classe e come si fa beh ci si reca nella classe destinazione poi crea riutilizza un post avete qui gli ultimi post che sono stati pubblicati ecco il nostro correzione gioco del giornalista bene lo prendiamo poi scegliamo riutilizza eccolo qua adesso il post è stato copiato esattamente com'era però all'interno della classe di destinazione se tra gli argomenti c'è anche lo stesso identico argomento in questo caso c'è il forum game non dobbiamo semplicemente pubblicarlo e il post apparirà nella classe di destinazione quindi questo è un ottimo modo per ricondividere quello che abbiamo fatto con altre classi senza bisogno di riscrivere tutto grazie a tutti grazie a tutti